Questa associazione è un fatto importante perché è in grado ovviamente di dare rappresentanza alle sette fondazioni che gestiscono i corsi, quindi la Regione dialogherà con questa associazione per la programmazione, per l'esigenza di nuovi corsi, per i problemi che possono nascere dentro a un corso, quindi è un fatto che lega anche il patto per il lavoro e il patto per il clima che abbiamo fatto. Ma faremo un investimento sui corsi TS perché abbiamo bisogno di fare il new day dei saperi e delle competenze, non c'è un manufatto che regge senza saperi e competenze e noi abbiamo bisogno di fare dei manufatti di qualità. Abbiamo visto che i ragazzi che entrano in questi corsi hanno uno sbocco di lavoro 80-90% e siccome il mismatch c'è, noi dobbiamo dare la possibilità sempre a più ragazzi e ragazzi di avere una specializzazione che gli permette di un lavoro dignitoso. Gli ITS hanno questa funzione, è un post diploma, si può intrecciare anche, stiamo discutendo con l'università per far sì che le lauree professionalizzanti, se c'è un ragazzo che non ce la fa nelle lauree professionalizzanti può andare all'ITS, ma un ragazzo che è bravo all'ITS, che vuole andare a prendere la laurea, perché no? Gli riconosciamo il credito e può laurearsi. E quindi la famiglia e il ragazzo deve sapere qual è l'impianto del sistema della formazione prima di entrare nel percorso.